Oggi è il giorno in cui i tuoi problemi finanziari trovano una soluzione. In questo momento speciale, hai la possibilità di ricevere un dono straordinario, che Dio ha preparato per te con cura. Dio mi ha affidato un messaggio preciso per te. Qualcosa di incredibile sta per accadere, un cambiamento così profondo e potente che non hai mai sperimentato nulla di simile. È giunto il momento di essere pronto. Attraverso questo messaggio, scoprirai cosa Dio ha pianificato per la tua vita, con la sua infinita saggezza. Entro poche ore, inizierai a vedere le benedizioni manifestarsi inaspettatamente. È essenziale che tu ascolti attentamente fino alla fine, per non perdere ciò che Dio ha riservato solo per te. Questa benedizione risponde a un desiderio profondo del tuo cuore, a un bisogno che solo Dio può soddisfare. Quando la sua grazia comincerà a manifestarsi nella tua vita, custodiscila in silenzio, non parlarne fino a quando non sarà pienamente compiuta. Spesso, è nel silenzio che possiamo cogliere le opere sottili ma potenti di Dio. In quei momenti di tranquillità, possiamo percepire con maggiore chiarezza la sua presenza lungo il nostro cammino. Quando qualcosa ti colpisce, che sia una parola o un'ispirazione interiore, dichiaralo con fede dicendo, lo accetto. Questo gesto di fede è cruciale per ricevere le benedizioni divine. Oggi, ti porto un messaggio che va oltre le parole. È una rivelazione divina, destinata a trasformare il tuo modo di vedere le cose e a toccare profondamente il tuo spirito. Hai mai provato quella sensazione che qualcosa di grande stia per accadere, un evento che cambierà radicalmente la tua vita? Questa è l'azione di Dio, che si sta preparando a intervenire nella tua esistenza in modo soprannaturale. Permettimi di chiederti. Hai mai vissuto giornate in cui sembra che tutto intorno a te stia crollando, quando la vita sembra confusa e le difficoltà si accumulano senza apparente ragione? La verità è che, in quei momenti difficili, Dio sta agendo, anche se non possiamo vedere chiaramente il suo operato. Lavora nei dettagli più nascosti, preparando qualcosa di meraviglioso per la tua vita. La Bibbia ci insegna che, dopo la tempesta, arriva la quiete. Ma c'è di più. Proprio nel mezzo della tempesta, Dio sta rafforzando la tua fede, plasmando il tuo carattere e preparandoti per la pace che verrà. Anche se oggi ti trovi a fronteggiare difficoltà e ostacoli che sembrano insormontabili, ricorda che dietro tutto questo c'è un piano più grande. È sorprendente pensare che, nei momenti in cui ci sentiamo più deboli e vulnerabili, è proprio allora che Dio è più vicino a noi. Non ti ha abbandonato, non ti ha lasciato solo in questa battaglia. Lui è al tuo fianco, attraversando queste acque burrascose insieme a te. Anche se può sembrare che sia in silenzio, sappi che con una sola parola può calmare tutte le tempeste che ti circondano. Il nemico potrebbe cercare di convincerti che tutto è perduto, ma non dare ascolto a queste menzogne. Proprio quando ti senti più fragile, è in quel momento che la potenza di Dio si manifesta con maggiore intensità nella tua vita. È nella tua debolezza che Dio ti solleva, ti sostiene e ti dà la forza per superare ciò che sembra impossibile. Ricorda la storia di Giuseppe, tradito dai suoi fratelli e gettato in una fossa. In quel momento, sembrava che tutto fosse finito per lui. Tuttavia, Dio aveva un piano più grande. Ogni ostacolo, ingiustizia e sfida, erano strumenti che Dio utilizzava per condurre Giuseppe alla posizione più alta in Egitto. Se Giuseppe si fosse arreso, non avrebbe mai vissuto la grandezza che Dio aveva destinato per lui. Anche tu, non mollare. Dio ha grandi progetti per la tua vita. Se Giuseppe avesse perso la speranza durante il suo tempo in prigione, non avrebbe mai visto realizzarsi le promesse di Dio. Perciò, fratello o sorella, non abbatterti. Ciò che oggi sembra una sconfitta è in realtà parte del percorso che Dio sta utilizzando per portarti alla vittoria. Se credi in questo, condividilo con gli altri. Le difficoltà che affronti ora sono solo i gradini che ti porteranno al trionfo. La realtà è che, a prescindere da chi siamo o dal nostro passato, tutti affrontiamo prove. Ognuno di noi porta con sé un fardello unico, e spesso queste sfide sembrano travolgerci, come tempeste improvvise che distruggono tutto ciò che abbiamo costruito. Ci fanno sentire smarriti e senza la forza di continuare. In quei momenti, guardiamo intorno a noi e sembra che nessuno possa comprendere il nostro dolore. Proviamo a spiegare, a sfogarci, ma è come se nessuno riuscisse davvero a cogliere la profondità del nostro tormento. Eppure, c'è qualcuno che comprende ogni tua emozione, anche senza che tu dica una parola. Il Padre Celeste conosce ogni tuo pensiero, ogni lacrima versata in silenzio e soprattutto il motivo dietro ogni tua battaglia. Oggi Dio ti parla, figlio mio, figlia mia. La tua fede, la speranza e il coraggio che hai mostrato nelle difficoltà non sono passati inosservati. Lui vede tutto ed è al tuo fianco. Dio non ti abbandona mai, nemmeno quando ti senti completamente solo. Proprio in quei momenti di maggiore solitudine, si avvicina di più, perché è allora che hai più bisogno del suo amore, della sua presenza e del suo conforto. So che è difficile, molto difficile attraversare il deserto senza chiederti Dio, perché sta succedendo tutto questo? La risposta che Dio ti dà oggi è che tutto ciò è parte della preparazione. Ogni battaglia, ogni lacrima versata è una tappa di preparazione per qualcosa di più grande che sta per arrivare. Non sei stato creato per essere sconfitto dalle tempeste, ma per superarle. E quando uscirai da queste prove, sarai trasformato. Dio trasforma il dolore in forza, la paura in coraggio e il dubbio in fede incrollabile. Accogli questa benedizione, perché nei prossimi momenti avrai una nuova chiarezza su ciò che stai attraversando. Prego con tutto il cuore che tu non permetta mai alle voci intorno a te di scoraggiarti o di farti dubitare delle promesse che Dio ha fatto per la tua vita. Ricorda le parole del Signore, che affermano che, qualunque cosa accada, Lui sarà sempre al tuo fianco, tenendoti per mano e dandoti forza. Dio non ha mai detto che non ci sarebbero state battaglie, ma ha promesso che sarebbe stato con te in ciascuna di esse. E se Dio è con te, nessun ostacolo sarà troppo grande da fermarti, nessuna tempesta sarà in grado di abbatterti. Spesso, le voci che ci scoraggiano di più non vengono dall'esterno, ma dal nostro stesso interno. Quelle voci che ti fanno sentire insufficiente, indegno, o che i tuoi sforzi sono vani. È in quei momenti che hai bisogno di una forza ancora più grande, perché il nemico conosce bene il potere delle parole. Sa che, se riesci a convincerti ad accettare queste menzogne, guadagnerà terreno nella tua vita. Ma Dio ti ha dato il potere di zittire quelle voci. Ti ha dato la Sua parola, che è la verità assoluta. Affidati ad essa. Quando i pensieri di sconfitta o scoraggiamento si fanno strada nella tua mente, afferma con forza le promesse di Dio. Proclama con fede. Sono più che vincitore in Cristo Gesù. I progetti di Dio per me sono per il bene, non per il male. Dio rimarrà fedele a ogni promessa, ogni parola, e realizzerà ogni sogno che ha piantato nel tuo cuore. Dillo con convinzione, perché le parole pronunciate con fede possono abbattere ostacoli e trasformare le circostanze. Quando inizi a dichiarare le promesse di Dio, accade qualcosa di straordinario. L'ambiente intorno a te si trasforma, la tua mente si rinnova, e il nemico è costretto a fuggire, perché non può resistere a chi confida pienamente nel Signore, a chi conosce la Sua parola e rimane saldo nella verità divina. Accogli questa verità con gratitudine. Prego che il Signore ti conceda la saggezza per riconoscere la Sua voce in mezzo a tutti i rumori che ti circondano, affinché tu possa distinguere tra ciò che è vero e ciò che sono solo menzogne destinate a frenarti. Prego che ogni parola negativa, ogni dubbio, e ogni critica diventino per te un'opportunità per cercare ancora di più la presenza di Dio, per rafforzare il tuo spirito e continuare il cammino verso le promesse che Lui ha preparato per te. Ricorda che Dio ha già scritto la tua storia, e non scrive storie di fallimento, ma di redenzione e vittoria. Le promesse di Dio per te sono autentiche e veritiere, e al momento opportuno si realizzeranno in modo così straordinario che tutti intorno a te riconosceranno che è stata la mano di Dio a guidarti verso il successo. Oggi ti incoraggio a non arrenderti. Non lasciare che le voci dello scoraggiamento spengano la fiamma dello spirito che brucia dentro di te. Non dare retta alle bugie che cercano di indebolire la tua fede e il tuo scopo. Dio ti ha chiamato per qualcosa di grande, per un progetto unico, e ciò che ha promesso si realizzerà. Potrebbe richiedere più tempo di quanto pensavi, potrebbe richiedere più impegno, più fede e perseveranza, ma accadrà, perché Dio è fedele e non viene meno. In questo momento speciale, ricevi la potente benedizione dell'Altissimo. Lascia che il suo amore incondizionato ti avvolga, che la sua grazia ti riempia di forza, e che la sua pace divina riempia la tua anima. Ascolta con attenzione, perché questo riguarda la tua famiglia. Voglio ricordarti che Dio non ti ha mai dimenticato. Non ha dimenticato la tua casa, i tuoi figli o il tuo matrimonio. Anche quando tutto sembra crollare e i problemi si accumulano, Dio è con te, lavorando in segreto per realizzare qualcosa che ti sorprenderà. So che a volte mantenere la fede è difficile, quando le difficoltà crescono e le soluzioni sembrano sempre più lontane. Ma è proprio in questi momenti che Dio si manifesta, trasformando l'impossibile in realtà. Dio ama sorprendere i suoi figli, e oggi sta agendo in modo soprannaturale nella tua famiglia. Non importa quanto siano grandi le difficoltà, il dolore o l'incertezza. Egli sta stendendo la sua mano potente sulla tua casa. Hai mai riflettuto sul fatto che Dio conosce ogni lacrima che versi in segreto? Vede i tuoi sforzi per mantenere la pace nella tua famiglia, per prenderti cura dei tuoi figli e per sostenere il tuo matrimonio. Oggi ti dice di non temere, perché Lui è con te. Dio sta portando pace, riconciliazione e rinnovamento alla tua casa. Le porte che sembravano chiuse si apriranno, e ciò che sembrava perduto sarà restaurato in modo sorprendente. Accogli questa benedizione, caro fratello e cara sorella. Se hai pregato per la trasformazione di un tuo figlio, credi che Dio ti sta ascoltando. Se la tua richiesta è per una casa colma di pace e unità, sappi che il Signore sta già operando a favore della tua famiglia, visitando ogni angolo della tua abitazione e toccando ogni cuore e ogni pensiero. Sta cambiando le mentalità, abbattendo barriere e guarendo ferite. Quando Dio entra nella nostra casa, tutto si trasforma. Questo cambiamento non è solo superficiale, ma inizia dentro di noi. Egli porta ordine nel caos, illumina ciò che era immerso nell'oscurità, rinvigorisce ciò che è spezzato e infonde speranza dove sembrava non ce ne fosse più. Dio prende ogni pezzo della tua vita e lo trasforma in qualcosa di nuovo, più bello e completo. Oggi, Egli ti invita a fidarti di ciò che sta realizzando. Rinnova la tua fede nelle sue promesse e non perdere mai la fiducia nella parola che ti ha dato. Dio porterà a compimento quel sogno che sembrava impossibile e lo trasformerà in realtà. Non sta solo operando nella tua vita, ma anche in quella della tua famiglia. Sta lavorando nei tuoi figli, nel tuo matrimonio, nei tuoi genitori e in tutte le persone a cui tieni. Non lasciare che paura, dubbio o ansia minaccino la tua fiducia in ciò che Dio sta realizzando. Spesso desideriamo vedere cambiamenti immediati, ma Dio opera sempre al momento giusto. Mentre preghi, Egli sta modellando, preparando e curando ogni dettaglio con grande attenzione. Anche se ora non puoi vedere i risultati, sappi che la trasformazione è già in corso. Abbraccia il cambiamento che Dio sta portando nella tua vita e condividi questo messaggio con chi ne ha bisogno. Parla con fede e proclama la grazia che le persone riceveranno quando Dio agirà. Quando Dio interviene, lo fa in modo completo, senza lasciare nulla incompiuto. Quell'animo indurito che ti preoccupava, Egli lo sta ammorbidendo. I problemi finanziari che sembravano impossibili, Egli li sta risolvendo. Le tensioni irrisolte si stanno per trasformare in riconciliazione. E non sarai solo tu a testimoniarlo, ma tutti attorno a te vedranno la manifestazione della gloria di Dio nella tua casa. Perciò, oggi ti invito a pregare, a mettere tutto nelle sue mani e a fidarti che Dio sta benedicendo ogni angolo della tua vita, rimuovendo fardelli, tristezza e preoccupazione, e portando leggerezza, amore e gioia. Questo non è solo un messaggio per oggi, ma una verità che dovrebbe risuonare in ogni giorno della tua esistenza. Fai attenzione a un aspetto cruciale, le influenze negative. La Bibbia ci mette in guardia chiaramente in 1 Corinzi 15 e 33. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Non si tratta solo di un semplice avvertimento, ma di un serio richiamo. Spesso crediamo di poter affrontare qualsiasi situazione e frequentare chiunque senza compromettere la nostra fede, ma la verità è che nessuno è abbastanza forte da resistere a certe influenze negative. Immagina un frutto sano messo in un cesto di frutti marci. Non ci vuole molto perché anche quel frutto sano inizi a deteriorarsi. Lo stesso accade a noi e alle persone che scegliamo di frequentare. Se ci circondiamo di individui che non condividono i valori e i principi di Dio, inevitabilmente ne saremo influenzati. Non sto suggerendo di evitare completamente chi la pensa diversamente, ma è fondamentale essere consapevoli delle scelte che facciamo riguardo a chi lasciamo entrare nella nostra vita. Le persone che frequentiamo influenzano profondamente la nostra mente, i nostri atteggiamenti e, soprattutto, la nostra fede. Dio desidera che tu sia il sale della terra e la luce del mondo, ma per farlo devi essere prudente riguardo a chi ti circonda. È essenziale discernere ciò che ti edifica da ciò che ti allontana dalla presenza di Dio. Accogli questa verità e rifletti sulle volte in cui ti sei trovato in situazioni difficili a causa delle influenze sbagliate. Potresti aver preso decisioni che non rispecchiano i tuoi valori, perché eri circondato da persone che non si preoccupano di ciò che è giusto o sbagliato. Queste persone spesso cercano il piacere immediato, senza preoccuparsi della volontà di Dio. In tali momenti comprendiamo quanto possano essere dannose le cattive compagnie, possono allontanarti dal piano divino per la tua vita e farti dimenticare i valori che hai sempre seguito. Prima che te ne renda conto, potresti ritrovarti a compiere azioni che non avresti mai immaginato, a parlare in modi che non ti rappresentano, a frequentare luoghi che avevi promesso di evitare e a comportarti in maniera che non rispecchia chi sei realmente né ciò che Dio desidera per te. Questo succede perché ti lasci trasportare dalla corrente di chi non si preoccupa della tua crescita spirituale. Molti di coloro che consideriamo amici, sfortunatamente, non sono veri amici. Quando hai davvero bisogno di loro, svaniscono. Non ti stimolano a cercare Dio o a crescere spiritualmente, ma sono sempre pronti a coinvolgerti in feste, chiacchiere superficiali e comportamenti che ti allontanano dalla fede. Non farti ingannare. Dio non vuole che tu viva in questo modo. Ti ha scelto per essere una luce, per brillare e dare esempio. Se continui a restare nelle tenebre, la tua luce rischia di spegnersi. Dio desidera che tu sia come il sale della terra, ma se il sale perde il suo sapore, non serve più a nulla, se non a essere scartato e calpestato. Non lasciare che la tua essenza si disperda a causa delle cattive influenze. Spesso è difficile ammettere che alcune amicizie possano essere dannose per noi. Formiamo legami profondi e condividiamo momenti significativi, ma è fondamentale ricordare che la connessione più importante è quella con Dio. A cosa serve avere molti amici se ti senti solo nella tua fede? Non ha senso avere mille conversazioni se in queste non c'è spazio per parlare di Gesù, della Bibbia e delle meraviglie che Dio ha fatto nella tua vita. Se le persone intorno a te non sono interessate a queste verità, è tempo di riflettere. Il primo passo per cambiare questa situazione è chiedere a Dio discernimento e saggezza per capire chi davvero contribuisce alla tua crescita spirituale e chi, invece, ti allontana dal giusto cammino. Non ti sto suggerendo di troncare bruscamente i legami, ma di dare priorità alla tua relazione con Dio. Dedica il tuo tempo e le tue energie a coltivare legami con persone che condividono la tua fede, che ti incoraggiano a crescere in Dio, pregano con te e ti guidano verso una comprensione più profonda del Signore. Se ti senti solo e privo di qualcuno che ti accompagni in questo percorso spirituale, non perdere la speranza. Dio sta preparando la strada e ti metterà accanto le persone giuste. Prega intensamente per questo e chiedi a Dio di rivelarti chi desidera che cammini con te. Nel frattempo, diventa tu stesso la luce che brilla nelle tenebre. Sii quel sale che trasforma e arricchisce la vita degli altri. Testimonia la tua fede ovunque tu sia e, col tempo, noterai che le cattive influenze si allontaneranno naturalmente. Dove risplende la luce di Cristo, le tenebre non possono permanere. Oggi segna il tuo giorno di cambiamento, un'opportunità per rivalutare le tue relazioni e rafforzare il tuo cammino con Dio. Ma questo è solo l'inizio. Ci sono nuove possibilità di crescita spirituale che ti aspettano. Questo è il tuo momento di trasformazione, un'opportunità per compiere quel passo di fede che hai desiderato per lungo tempo. Dio conosce il tuo cuore a fondo e sa tutto ciò che hai affrontato. Ha visto ogni lacrima versata in silenzio e ha ascoltato ogni preghiera, anche quelle sussurrate nei momenti di angoscia. Per questo ti dice che è tempo di lasciarti alle spalle la stagnazione. Non è più il momento di fissarti sul passato o di sentirti schiacciato dagli errori e dai fallimenti, perché essi non definiscono chi sei. Oggi Dio ti invita a rialzarti con coraggio e determinazione, pronto ad abbracciare la trasformazione che ha preparato per te. Le scritture ci insegnano che la fede senza opere è morta. Ciò significa che non basta credere che Dio possa cambiare la tua vita, devi anche agire in base a questa convinzione. Ora è il momento di lasciarti guidare da Dio, di rinnovare non solo i tuoi pensieri, ma anche le tue azioni. Quando vivi in modo che piaccia a Dio, le porte si aprono, i sentieri si illuminano e la pace riempie la tua anima. In pratica, cosa significa tutto questo? Significa amare gli altri come te stesso, perdonare chi ti ha ferito, aiutare chi è in difficoltà e tendere una mano a chi ha bisogno. Significa anche condividere parole di speranza e impegnarti a essere una luce in mezzo alle tenebre. Accetta questa grazia e apri il cuore alla trasformazione che sta per arrivare. Il viaggio che hai intrapreso è solo l'inizio, e le benedizioni che Dio ha riservato per te sono innumerevoli. La vera trasformazione parte dall'interno, attraverso piccoli gesti quotidiani, atteggiamenti genuini e scelte che realmente piacciono al cuore di Dio. Se ti stai chiedendo se sei in grado di vivere in questo modo o se il cambiamento ti sembra impossibile, ricorda una verità fondamentale. Con Dio al tuo fianco, nulla è impossibile. Non importa quante volte ti sei sentito come se avessi fallito, fatto errori o imboccato la strada sbagliata. Ciò che conta è che oggi stai ricevendo questo messaggio per lasciarti il passato alle spalle e guardare al futuro con occhi rinnovati e una prospettiva nuova. Dio vuole che tu comprenda che non devi più portare il peso della colpa, del dolore o dei fallimenti. Ti offre il suo perdono, la sua grazia e la forza per riprendere il cammino su un sentiero nuovo. Dio ti sta comunicando che è qui, al tuo fianco, pronto a rinnovare ogni cosa nella tua vita. Non sei solo in questo viaggio. E quando ti arrendi davvero, quando apri il cuore senza riserve, è come se Dio togliesse un velo che ti impediva di vedere chiaramente, permettendoti di scoprire una nuova luce e un nuovo scopo nella tua vita. Oggi è il momento giusto per prendere la decisione di vivere nel presente e abbracciare il cambiamento che Dio desidera portare dentro di te. È un invito a fare il primo passo verso un futuro trasformato, guidato dalla mano divina, dove ogni giorno sarà un'opportunità per rinascere e vivere pienamente. Che queste parole possano toccare il tuo cuore e ispirarti ad andare avanti con coraggio e determinazione. Ricorda sempre, con Dio al tuo fianco, nulla è impossibile. Aggrappati a questa verità nel tuo spirito. Che Dio ti benedica, riempia la tua vita, la tua famiglia e i tuoi sogni, e che tu possa vivere questa trasformazione divina ogni giorno. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i futuri messaggi di Dio per la tua vita. Che tutti possano rimanere sotto la protezione e la pace di Dio.